Se ci amiamo gli uni agli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. La solitudine, il dramma che ancora oggi affligge tanti uomini e donne. Sembrerebbe che le società più avanzate siano proprio quelle che hanno la percentuale più basa di natalità e la percentuale più alta di aborto, di divorzio, di suicidi e di inquinamento ambientale e sociale. Per Dio il matrimonio non è utopia adolescenziale, ma un sogno senza il quale la sua creatura sarà destinata alla solitudine. Paradossalmente anche l'uomo d'oggi, che spesso ridicolizza questo disegno, rimane attirato e affascinato da ogni amore autentico. La Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella verità. La Chiesa è chiamata a vivere la sua missione nella carità. Non punta il ditto per giudicare gli altri. Noi dobbiamo amare il nostro tempo e aiutare l'uomo del nostro tempo. E la Chiesa deve cercarlo, accoglierlo e accompagnarlo. Perché una Chiesa con le porte chiuse tradisce se stessa e la sua missione. E invece di essere un ponte, diventa una barriera.